Partiranno lunedì prossimo 11 novembre i attesissimi lavori di asfaltatura in via Calamandrei, una delle arterie più ammalorate dell'intero tessuto cittadino. Inizialmente previsto a settembre, l'intervento è slittato a novembre e si protrarrà fino a venerdì 20 dicembre. I lavori ci svolgeranno in orario notturno dalle 20 e 30 fino alle 6 del mattino per impattare meno possibile sulla circolazione e sul traffico già di per sé intenso in questa zona molto frequentata. Il cantiere procederà a step con interventi progressivi che lasceranno inalterata la viabilità nelle parti non interessate. Proprio per impattare il meno possibile sarà comunque garantita la circolazione in uscita da Arezzo verso Chiani, mentre verso il centro i mezzi si adegueranno di volta in volta con percorsi alternativi.